ma buonasera buonasera pronti per lavare i piatti con me i miei fans ecco qua mi faccio un baletto un po di colore sul nero un po di colore allora oggi è sabato è sabato domani è la festa della mamma dobbiamo festeggiare tutte le mamme e io ho i capelli bianchi come mamma avrò la bimba che mi farà la tinta finalmente il lunedì quindi ancora un paio di giorni devo stare con i capelli bianchi lo so ci sono donne che poi si colorano francamente di bianco nel senso che si fanno poi tutte bianche io li trovo molto sexy questi guanti voi come li trovate com'è che si fa il cuore così ecco un cuore così per voi mi raccomando iscrivetevi al canale veronica rossi veronica orlando è diciamo una perrari rossa il mio profilo qua su youtube presto sarà di nuovo in voga diciamo così l'altro canale poi mi trovate su instagram con veronica punto orlando 61 o veronica rossi facebook mi trovate come veronica rossi la pagina e poi ho il profilo anche allora di che cosa parliamo dei piatti allora chi è che vuole lavare i piatti in casa nessuno mai vuole lavare i piatti per quello hanno inventato le lavastoveglie e però la lavastoviglie interessante però ragioniamo una cosa che i piatti vanno prima sciacquati quindi quasi lavati e poi inseriti nella lavastoviglie altrimenti rimane tutto lo sporco appiccicato allora io mi dico io avevo una lavastoviglie sono sincera non me ne abbiano i venditori di lavastoviglie che poi finisce che mi dicono sì però se tu parli così noi non vediamo più lavastoviglie no non è quello il senso il senso che quando si è in tanti giustamente sono pile di piatti e allora vanno messe in lavastoviglie poi il ciclo oggi come oggi è un attimino più veloce una volta questi cicli di lavaggio erano abbastanza lunghi per cui si consumava un sacco di luce ed ecco che c'è l'energia elettrica ed ecco che la bolletta andava alle stelle e noi andavamo nelle stalle a fare l'amore si può anche fare l'amore nelle stalle con la puzza di vacche ecco che questa è la mia parolandia abbiamo coniato questo termine per far sì che le parole siano in libertà in modo da dire tutto e dire niente ma di che cosa stiamo parlando questo è il vero nocciolo nocciolo della questione allora dicevamo quindi i piatti se sono lavati a mano quindi con i guanti perché se noi abbiamo le unghiette belle fatte come le mie appena fatte vedete così miei porcellini vi chiamo miei porcellini perché mi scrivete sempre delle cose che sono veramente ecco con questi guanti si può fare qualunque cosa ma qualunque proprio si può plasmare la creta si può fare veramente veramente tanto dicevamo che se i piatti sono 1 2 3 4 5 e una pentola solo forse è meglio lavarmi a mano io faccio così me li lavo a mano se poi non vogliamo lavare i piatti ecco che possiamo usare quelli di carta quelli usa e getta e quella potrebbe essere una soluzione adesso li tolgono quelli di plastica perché stanno inquinando l'ambiente dobbiamo sempre stare molto molto attenti all'ambiente rispettarlo perché altrimenti l'ambiente ci crea problemi a noi ecco che quando c'è stato il periodo del lockdown vedete che gli animali hanno ripreso il loro habitat naturale nel senso che si sono proprio riappropriati del loro territorio sia marino che lacustre che terrestre abbiamo visto delle occhette che camminavano in mezzo alla via abbiamo visto delle immagini straordinarie peraltro allora dicevo quindi i piatti sono sempre problema nella coppia perché poi molte coppie si divorzano per via di non aver voglia sempre di lavare i piatti ecco che la lavastoviglia un po' ha sistemato questo problema però non del tutto quindi io vi lascio con questo quesito che poi riprenderemo successivamente su questo canale di veronica rossi veronica orlando il dilemma del chi lava i piatti anche tra amici a volte dice sì vabbè però poi chi li lava tu fai da mangiare ma io però lavo i piatti ok quello forse preferiva far da mangiare parolandia per voi